LIC! Ben ritrovati i miei cari vintori dell'Ugione a Barcalcio, diciottesima giornata di Serie A conclusesi e adesso dunque come di consueto andiamo a fare l'analisi di quello che ci ha detto e ci ha detto tante cose a cominciare che con una giornata d'anticipo il campione d'inverno è l'Inter nazionale di Milano l'Inter quindi con una giornata già d'anticipo si può laureare il campione d'inverno detto che è un titolo appunto sulla carta e non di fatto detto questo però adesso ci addentriamo sfida per sfida ma prima di iniziare a marcamami ancora avventore tasto rosso clicchi, iscriviti al canale, condividilo con tutti i tuoi amici appunto calciofili che conosci lascia sempre il tuo mi piaccino ai video dell'Ugione Barcaccio iniziamo dall'Azio Genova che è subito iniziata con una brutta notizia per i laziali cioè l'assenza di immobile ma nonostante questa assenza sono riusciti comunque a fagocitare un Genova in estrema difficoltà di risultati e Shevchenko secondo me non sa più che pesci pigliare ma comunque ha ricevuto dalla società l'assoluta conferma quindi Shevchenko non rischia assolutamente l'esonero il Genova però dovrà adoperarsi molto nel mercato di riparazione perché altrimenti rischiano seriamente di andare in Serie B con la rosa attuale la Lazio invece ha ottenuto una vittoria che secondo me era ovvio che dovesse arrivare perché laddove non fosse arrivata sarebbero stati a stiamari per i sicari il Salernitana Inter, altra partita dove era ovvia la vittoria dell'Inter e la vittoria dell'Inter è arrivata anche con un sonoro roboante 0-5 Denzel Dumfries sugli scudi assolutamente insieme a Celanoglu i migliori della partita partita a senso unico e l'Inter qua appunto continua la sua stato di forma incredibile che si è appunto fatta guadagnare si è guadagnata con questa e con questo filotto che hanno fatto appunto il titolo come poc'anzi detto di campioni di inverno la Salernitana è già una società che secondo me può programmare il futuro nel senso che se c'è una cosa sicura è che la Salernitana in Serie A il prossimo anno non ci sarà Atalanta-Roma Atalanta-Roma è stata se vogliamo una sorpresa ma fino a un certo punto nel senso che quando si incontrano squadre di questo calibro è ovvio che è sempre una partita da tripla una sorpresa più che altro per quanto riguarda il risultato certamente non mi sarei mai aspettato 1-4 a favore della Roma a Bergamo va detto che l'Atalanta di Gasperini quest'anno in casa sta faticando perché in casa hanno un ruolino che non è assolutamente comparabile con quello che hanno fuori casa vi dico solo che in casa su 9 partite hanno fatto 12 punti mentre fuori casa su 9 partite ne hanno fatti 25 cioè quindi se fosse un campionato fatto solo di fuori casa l'Atalanta avrebbe una proiezione di 100 punti mentre in casa devono riuscire a trovare la quadra perché veramente i 12 punti sono molto pochi tanto per farvi capire anche se il Bologna ha una partita in più ma noi abbiamo 16 punti anche se dovessimo togliere quella vittoria ne avremo comunque 13 tanto per fare capire la difficoltà dell'Atalanta in casa in questo giurale d'andata cosa che comunque può sicuramente limare l'Atalanta è quarta nonostante la sconfitta la Roma però si avvicina è quinta insieme a Fiorentina e Juventus che sono tutte e tre a quota 31 punti l'Atalanta è a più 6 da loro adesso vediamo se l'Atalanta riuscirà appunto alla prossima a rialzare subito la china la risposta però grossa viene da Roma dove Mourinho ottiene una vittoria fondamentale per il rilancio della sua squadra e quindi Bissa la vittoria con lo Spezia dove tutti ce la si aspettava la vittoria contro l'Atalanta invece può essere un trampolino di lancio per una nuova maturità di questa Roma che adesso attendiamo al prossimo scontro in casa con la Sampdoria che ci dirà molto andiamo avanti Bologna-Juventus Bologna è caduta 2-0 con appunto la Juventus che ha trovato una vittoria che possa dare nuovamente fiato ad una classifica che ad oggi recita settimo posto per la Juventus è una notizia certamente alla prossima avranno in casa il Cagliari tutto lascia pensare che continueranno e finiranno appunto questo anno solare con un'altra vittoria e quindi con un ulteriore consolidamento appunto di rincorsa alla zona Champions League cosa che invece il Bologna ha avuto un arresto preoccupante basti pensare che negli ultimi tre ha ottenuto tre sconfitte si diceva quanto fosse bello questo Bologna che a quattro giornate dalla fine del giornale d'andata aveva già macinato 24 punti ci si proiettava già semplici semplici almeno ad arrivare quasi a 30 e quindi a girare con una proiezione di 60 punti finali invece bisogna guardare la realtà che racconta sempre un Bologna nella mediocrità di metà classifica vedremo se le cose potranno cambiare la prossima è Sassuolo Bologna e molto ci dirà in questo andiamo avanti Cagliari Udinese 0-4 per l'Udinese un risultato sicuramente eccessivo nel senso che da pronostico non si sarebbe mai pensato di dire 0-4 per l'Udinese segno e sintomo che il Cagliari rischia seriamente la Serie B perché quando accadono queste cose qua contro squadre come l'Udinese cioè non perché l'Udinese anzi secondo me l'Udinese è un'ottima squadra ma intendo tra due squadre che sulla carta si equivalgono e quando la squadra di casa perde con quattro reti di differenza da quell'altra c'è un qualcosa di molto più grave ok di profondo tant'è vero che i dirigenti hanno già fatto sapere che verranno tagliate molti giocatori e che molti di quei giocatori che hanno partecipato allo 0-4 non scenderanno più in campo ma Zari è al sicuro hanno detto non verrà esonerato l'Udinese con Cioffi sta facendo bene perché ha macinato due vittorie una delle due in Coppa Italia l'altro è il pareggio che comunque è col Milan e quindi è di lusso stanno facendo stanno facendo bene obiettivamente da quando da quando hanno cambiato allenatore adesso l'Udinese sembra possa rialzare la china andiamo avanti Fiorentina e Sassuolo ragazzi ho visto la partita ma che belle squadre io adesso guardo Fiorentina e Sassuolo e capisco qual è la differenza con la mia purtroppo per fortuna per Fiorentina o per Sassuolo sono due squadre che corrono sono due squadre che hanno idee di gioco che riescono a trasferire in campo con i loro giocatori io ho visto un'immagine molto bella di Vlaovic che è uscito dal campo sul finale è stato sostituito pensate all'ottantottesimo e non voleva uscire ma la cosa che più mi ha colpito è che sul finale di partita era lì in apprensione a dare le indicazioni ai suoi compagni di squadra a bordo campo segno che sia anche un giocatore in scadenza è un giocatore che in questo momento ha la cabeza unicamente per quello che fa ok e quindi sono questi i giocatori che ti fanno fare il salto di qualità alla squadra giocatori che pensano ok all'adesso e non al futuro questi sono giocatori di grande mentalità Vlaovic è sicuramente un campione così come un campione secondo me Scamacca e Frattesi due giocatori di cui sentiremo molto parlare che penso faranno parte ben presto della committiva azzura che i giocatori che sono Frattesi talato e anche Scamacca due italiani meno male sono due gran bei Zuggador italiano e dall'altra parte Dionisi sono due allenatori in rampa di lancio mi piacciono veramente tanti in rampa di lancio per modo di dire adesso perché comunque sono appunto già scoperti ok e continuano comunque a stupire veramente complimenti Fiorentina e Sassuolo meritano di essere dove sono a dirile di Sassuolo non sta messo benissimo in classifica però insomma fa vedere di avere un gioco spumeggiante e soprattutto sono in gran forma ultimamente basti pensare che nelle ultime cinque partite sarebbero sesti in classifica quindi sono in ascesa andiamo avanti con Spezia Empoli terminata con un uno a uno partita che qua confesso di non avere visto quindi non mi dilungo oltre una partita dove io avevo pronosticato la vittoria dell'Empoli invece arriva il pareggio che ci può stare per carità quindi non è che mi sorprenda più di tanto però insomma l'Empoli mi dava la sensazione di poter vincere a Spezia ma lo Spezia fa capire che potrebbe avere qualcosa di più in termini di coesione di gruppo rispetto a due compagini come il Genova e il Cagliari che sono avvertite devono assolutamente fare qualcosa sul mercato perché altrimenti rischiano seriamente di andare in B con la Salernitana mentre lo Spezia con Tiago Motta evidentemente hanno una forza di gruppo superiore l'Empoli ormai non è una sorpresa consolidano il nono posto ok sono a quattro punti dalla Juventus dalla Frentina e dalla Roma e quindi dalla quinta piazza complimenti all'Empoli neopromossa andiamo a Torino Verona dove il Torino di Juric vince con un gol di Pobega sul Verona e adesso il Torino è veramente un fire ed è decimo in decima posizione ha superato il Sassuolo no in realtà erano già in equa distanza già da prima di questa partita avendo vinto entrambi ha superato il Bologna ha superato il Bologna e ha superato il Verona Bologna che adesso si attesta in dodicesima posizione mentre il Torino appunto vola alla decima quindi complimenti al Torino che anche loro sono in un buono stato di forma in questo momento mentre il Verona sta avendo una leggera una leggera flessione e quindi dovrà mettere mano chiudo per cercare di frenare questa flessione che stanno avendo e potrebbe essere preoccupante andiamo a Sampdoria Venezia dove il Venezia ottiene un altro pareggio molto importante per la classifica che la testa insieme allo Spezia due squadre che hanno una forza di gruppo superiore dove il loro allenatore in questo caso parliamo ovviamente di Zanetti ha trasferito alla squadra dei concetti molto chiari che i giocatori danno modo di seguire ricordiamo che il Venezia è neopromossa e secondo me il Venezia alloggia qualcosa di più sia dello Genova che del Cagliari che dello stesso Spezia e del Vero Sampdoria che è stata appunto fermata all'ultimo minuto sul pareggio era andata in vantaggio con un gang goal di Gabbiadini proprio dopo 40 secondi penso comunque al primo minuto non sono riusciti a portarla a casa e la Sampdoria appunto naviga non in bellissime acque ok perché sta quindicesima e solamente a 5 lunghezzi dalla zona salvezza quindi bisogna fare attenzione anche in quel di Sampdoria perché con anche la crisi societaria che stanno vivendo non è un bel andazio si finisce con Milan-Napoli sicuramente una delle partite di cartello di questa diciottesima giornata e arriva la sorprendente ma neanche tanto perché parliamo di nuovo di due grandi squadre come in Atalanta-Rome che quindi non è mai una sorpresa perché sono tutte partite da tripla arriva l'Atalanta convincente arriva la vittoria pardon la vittoria convincente del Napoli sul campo del Milan quindi a Milano con un gol di Elmas subito a pronti via al quinto minuto il Milan aveva anche trovato il pareggio ma viene annullato il gol per fuorigioco quindi la sostanza dice che il Napoli si rilancia va al secondo posto supera il Milan per appunto lo scontro diretto e quindi il Napoli è secondo il Milan è terzo anche se poi sono a pari punti a 39 e distano quattro lunghezze dall'Inter e io continuo a fare i complimenti all'Inter per aver recuperato una distanza che a un certo punto sembrava essere abissale che addirittura pare poter girare al giro di Boa con quattro punti in vantaggio sulle seconde che appunto sono Napoli e Milan complimenti complimenti insomma questa l'analisi di questa giornata il Milan deve fare attenzione perché sta vivendo un periodo un attimo di defiance va detto non sono informissima ok basti pensare che nelle ultime cinque partite in come lo stesso Napoli che con la vittoria di ieri si è rilanciato ma hanno fatto solo sette punti tanto per farvi sapere l'Inter ne ha fatti quindici nelle ultime cinque cinque su cinque bene con questo concludo fatemi sapere la vostra se volete aggiungere qualcosa qua sotto nel box commenti attivate il campanaccio pastorale prima nei sempre aggiornati qui all'Ugione Baccaccio nei video e noi ci sentiamo alle prossime che calabar